Ciao a tutti, sono Alessandra e benvenuti sul mio canale. Siete dell'umore giusto? Spero di sì, perché oggi parliamo della teoria degli umori. Scusate, non ho saputo registrare. Il microfono è diverso dal solito, quindi se sentite qualcosa di strano, suono schifo, fatemelo sapere, dovrebbe essere più o meno equivalente all'altro, ma se c'è qualche problema ditemelo. Detto ciò, torniamo subito alla nostra teoria degli umori. Questo sarà un video introduttivo, quindi non scenderò sui dettaglissimi sulla vita di Galeno o su tante altre cose, anche perché insomma me lo terrò per altri video, su Vesalio, insomma, tutte queste cose vanno per i prossimi video. Questa è diciamo una questione introduttiva, diciamo la classica risposta, l'avete sempre sentito parlare di questa cosa della teoria degli umori e volete saperne un po' di più. Bene, detto proprio in parole povere, la teoria degli umori è una teoria medica che si basa sul fatto che all'interno del nostro corpo ci sono quattro sostanze, questi quattro umori, umori è inteso sostanza vischiosa, diciamo, non so come dirlo bene, comunque una sostanza liquida vischiosa all'interno del nostro corpo e queste quattro sostanze sono alla base della nostra salute, quindi uno squilibrio di queste quattro sostanze può portare a malattia e problemi. Queste quattro sostanze sono il sangue, e fin qui è facile, la bile nera, la bile gialla e la flemma. Queste quattro sostanze all'interno del nostro corpo garantisce, l'equilibrio perfetto di queste quattro sostanze garantisce la salute. Questo è proprio in parole povere il significato di questa teoria. Questa teoria, che detto così adesso magari al giorno d'oggi ci può fare sorridere, rimane in voga per più di mille anni in Europa, perché Galeno, che l'ha resa popolare, è vissuto tra il 100 e il 200 d.C., non mille, cioè proprio 100-200, e ha cominciato a venire scalpellata via, come teoria diciamo, tradizionalmente si considera convesalio, quindi intorno al 1500. Quindi ne sono passati di anni, di secoli ragazzi, e per tutti questi anni nessuno si è mai sognato di metterla in dubbio, perché per loro funzionava. E quindi cosa fai? Metti in dubbio qualcosa che funziona? Non si è mai. Oltretutto viene da una persona dell'antica Roma che a sua volta si origina nell'antica Grecia, figurati chi sei tu per andare a mettere i bastoni fra le ruote a questa antica autorità. E infatti questa teoria degli umori non è stata inventata da Galeno, un medico appunto dell'antica Roma. È stata inventata da Ippocrate nell'antica Grecia. Non è stato il primo Ippocrate a teorizzare i quattro elementi, perché sono una cosa del circa 500 a.C., però il nostro Ippocrate è stato il primo a teorizzare questi quattro umori. La teoria non era ancora proprio come la conosciamo noi, nel corso dei secoli sono state fatte delle aggiunte, diciamo, dei collegamenti, ecco, non delle contraddizioni, guardate bene, dei collegamenti. Però già possiamo vedere la base della teoria degli umori come la conosciamo adesso, nel senso che c'erano questi quattro umori e un'esagerazione, uno squilibrio di questo o quest'altro umore, non so, un eccesso di bile giallo o di bile nera, poteva portare a delle conseguenze sul corpo. Quindi già in nuce c'era questa teoria. L'unica differenza che c'era era il fatto che gli elementi a essere associati ancora erano un po' diversi, intendo proprio i classici quattro elementi, insomma, aria, acqua, terra e fuoco, erano ancora leggermente diversi perché il sangue non veniva associato all'aria, come viene poi associato successivamente, ma viene associato al totale di tutti questi quattro ingredienti, di tutti questi quattro umori, è una specie di summa della perfezione di questi quattro umori. Questo perché? Perché Ippocrate aveva osservato il sangue, immaginatevi di mettere il sangue in una bicchiere di vetro trasparente e osservarlo, è fatto di varie sostanze, questo noi oggi lo sappiamo nel dettaglio, ma all'epoca era molto più difficile e aveva osservato come si fosse scomposto, cioè se ci pensate si scompone. Lui che cosa aveva notato? Aveva notato una parte che sprofondava, quindi una parte più pesante, che arrivava a coprire la parte di fondo che era di un rosso molto molto scuro, quasi nero, poi una parte che rimaneva di un bel rosso vivo, poi una parte rossastra piena di macchie bianche, poi una parte giallina, quindi questi per lui erano i quattro umori che andavano a comporre il sangue. Molto facile da quel punto di vista lì come osservazione, è un'osservazione che possiamo comprendere, chiaro che noi adesso abbiamo altre conoscenze, ma è un'osservazione che possiamo comprendere. Con Galeno questa cosa diventa un po' più popolare. Di Ippocrate abbiamo un testo scritto da Polibio, il suo genero è a Levo, che dopo viene ripreso da Galeno, insomma lui dopo scrive altri testi e porta avanti questa teoria. La faccio brevissima su Galeno. Galeno è un medico di gladiatore, medico di Marco Aurelio, l'imperatore, insomma figura cruciale della medicina dell'epoca. Porta avanti anche lui questa teoria e anche tutte le soluzioni mediche a essa collegata, perché ovviamente, insomma, questa teoria veniva considerata vera per vari motivi. Ossia spiegava tante malattie in realtà, che noi adesso possiamo dargli spiegazioni basandoci su virus o batteri, ma ovviamente all'epoca questo non era possibile. Ma che cosa spiegava la teoria degli umori? Beh, per esempio, d'inverno c'è una tendenza ad avere raffreddore, influenza, tosse, insomma, malattie che noi colleghiamo al sistema respiratorio. Per la teoria degli umori, questo è dovuto al fatto che d'inverno l'umore prevalente è la flemma. Quindi, ovviamente, un eccesso di flemma porterà a questo genere di malattie. In primavera si diventa eccessivamente vivaci e vitali, e questo perché c'è un eccesso di sangue, che è l'umore associato alla primavera. Ovviamente, come vi dicevo, sono associati alle quattro stagioni, sono associati anche all'età della vita, nel senso che la primavera è associata al sangue e alla giovinezza, e così via. Quindi, tutto questo portava all'idea che avesse senso, nel senso spiegava perfettamente le condizioni di salute delle persone dell'epoca. Quindi, abbiamo anche oggi questo problema di salute in realtà, però diciamo che spiegava alla perfezione le malattie, quindi non c'era neanche bisogno di andare a cercare qualcosa di diverso. Oltretutto, Galeno, in realtà, dal punto di vista etico, come medico per l'epoca, potremmo quasi dire che era avanti, nel senso che comunque, invitava i medici addirittura a non farsi pagare, a non essere avidi, a focalizzarsi sul bene del paziente, faceva le dissezioni. Certo, Galeno aveva fatto anche moltissime dissezioni di animali. Sappiamo di sicuro che aveva lavorato su scimmie, cani, maiali, eccetera, e purtroppo ci siamo portati avanti per centinaia di anni degli errori legati alle sue dissezioni di animali, perché non siamo uguali agli animali all'interno. Quindi, non lo so, mi pare che l'idea che il cuore abbia tre ventricoli l'avesse presa dissezionando i maiali, però adesso mi viene il dubbio con i cani, che però non corrisponde al corpo umano. Quindi ci siamo portati avanti per dei secoli degli errori dovuti proprio all'idea che gli animali e gli esseri umani sotto sotto all'interno fossero più o meno identici, cosa che ovviamente sappiamo non è così. Però funzionava. Nel corso dei secoli sono state fatte delle interpretazioni ulteriori, ad esempio collegate al zodiaco e agli astri. Sappiamo che era molto importante per la medicina dell'epoca avere una buona conoscenza di astrologia, un buon medico doveva essere anche un buon astrologo perché doveva dire, se doveva esserci un'operazione chirurgica, doveva anche dire tipo, ah, si va fatto in questo periodo perché l'influenza degli altri è quella giusta. Oppure avrebbe determinato magari quale malattia una persona era più propensa a soffrire durante la propria vita. Si possono ancora trovare degli schemi di, tipo l'uomo ferito di cui ho parlato in qualche video fa, cioè di queste persone immobili così con tante piccole scritte, ma con tutti i vari simboli dello zodiaco associati al corpo, si parte dalla rete e si va fino ai pesci. E tutte queste cose poi dopo determinano diverse malattie, diverse probabilità di cura. E anche dopo, perché vedremo come si curava, secondo questa medicina, anche i punti migliori per effettuare i salassi. Ma questo adesso ci arriviamo un pezzo alla volta. E quindi con questa associazione anche astrale e zodiacale, ovviamente si mantiene, la teoria di Galeno continua a restare popolare anche per i secoli successivi. Questa teoria, curiosamente, col fatto che appunto prevede un equilibrio totale di questi umori, spiega il ciclo mestruale femminile come un riequilibrare, ce la posso fare, degli umori. Cioè le donne erano meno propense a soffrire di alcune malattie, ma più propense a soffrire di altre, perché loro ogni mese espellevano il sangue in eccesso, quindi era un'espulsione degli umori in eccesso. Quello che invece una persona normale avrebbe dovuto andare a farsi fare un salasso, per togliere per esempio il sangue in eccesso. Quindi le donne erano più propense a soffrire di altri tipi di malattie, tendenzialmente quasi tutti i testi del passato, ma appunto sempre qua in area europea, eccetera, ci parlano della donna come un essere fisicamente più debole dell'uomo, quindi non è che fossero dei proto-feministi, antelitteram nel senso femminista, nel senso modello del termine, però è interessante vedere come tutto quello che appariva nella realtà poteva essere interpretato e spiegato secondo la teoria degli umori. E se funziona, come dicevo prima, perché cambiarla? Una cosa che effettivamente Galeno aveva indovinato era che l'alimentazione era cruciale per la salute. Il problema è che non aveva capito il perché, nel senso che è una cosa che succede tantissimo se si osserva la storia in generale del passato, vedere delle persone e degli esperti fare delle deduzioni corrette, ma sbagliate. Nel senso, è giusto dire che l'alimentazione influenza la nostra salute? Assolutamente sì. Dire che l'influenza, perché ci riequilibra gli umori, no, però adesso veniamo un attimo. Questo perché il cibo faceva parte di tutto un processo all'interno del corpo. Prima veniva ingerito, poi all'interno dello stomaco si trasformava in una specie di presangue, tra virgolette, un chilo, lo chiamavano mi pare, e questo presangue poi dopo andava nel fegato. Nel fegato si trasformava nel sangue venoso e questa trasformazione generava anche la bile nera e la bile gialla. Come scarti, in realtà. Questo sangue poi dopo andava fino al cuore. Parte di questo sangue in parte ovviamente andava alle vene. Quello che andava fino al cuore, poi dopo lì all'interno compieva una trasformazione e diventava sangue arterioso. E ancora oggi effettivamente si nota la differenza tra sangue arterioso e venoso. Quindi capisco che una persona all'epoca possa avere pensato che ci fossero due sostanze con delle differenze, ma tutto questo percorso ovviamente non è corretto secondo gli standard moderni. Non è che viene prodotta la bile nera o la bile gialla, ecco, per darvi l'idea. Dal cuore poi dopo parte di questo sangue andava appunto, come dicevo, nelle arterie, parte andava al cervello, dove con l'aggiunta di questo spirito vitale si trasformava in una sostanza che in pratica attivava quello che noi chiameremo il sistema nervoso perché andava a collegare il corpo e a permettergli di gestire le percezioni, i sensi, il movimento. Quindi era come se diventasse un po' il sistema nervoso perché appunto era poi collegato al cervello. Quindi non è corretto, però ci spiega che perché l'alimentazione era considerata cruciale. Infatti uno dei modi principali per curarsi se c'era qualche tipo di squilibrio di umori era proprio dovuto all'alimentazione. Quindi anche qua valeva il principio del contrario. Nel senso se io ho un eccesso di, non lo so, un eccesso di sangue, che il sangue era considerata una sostanza calda e viscosa, credo, perché c'era la differenza tra umido e secco e caldo e freddo. Quindi credo, se ben ricordo, che fosse considerata una sostanza calda e umida legata all'aria. Adesso però può rispondere. Comunque fate conto, se il sangue è una sostanza per esempio calda, allora ecco che dovrò mangiare qualcosa di, non so, io ho un problema di un eccesso di caldo e secco, quindi dovrò mangiare qualcosa di freddo e umido per riequilibrare. Insomma, il riassunto di quello che ci interessa è questo. Dovrò mangiare qualcosa di freddo e umido per riequilibrare gli umori. Ovviamente c'erano vari cibi, persino vari vini, che venivano considerati più adatti. Sai, vede che il vino in passato si venivano fatte tantissime aggiunte a livello di spezie, miele e cose varie, sia per renderlo più bevibile, sia perché era proprio una questione anche di gusto. Insomma, è buona, avete mai bevuto tipo il vin brulè? È buona, raga. Scusate la parentesi, però vari vini e anche varie alimentazioni e vari modi in cui erano preparati servivano ad assistere in un modo o nell'altro per riequilibrare gli umori. Magari a un certo periodo era meglio cibi più facilmente digeribili rispetto ad altri, questo ovviamente anche nei secondi periodi dell'anno, cioè si poteva anche un po' prevenire invece di curare, perché come vi ho detto, in ogni periodo, in ogni stagione, un umore avrebbe prevalso rispetto agli altri, quindi si poteva cercare di riequilibrare la cosa. Se l'alimentazione non bastava, si poteva ricorrere anche ai salassi. I salassi più o meno tutti hanno una vaga idea di cosa siano, si potevano fare in vari modi, sia proprio con dei coltelli, sia con tipo dei bisturi antelitteram, sia con le cari amiche sanguisughe, sia in altri modi che adesso vediamo, ma in pratica i salassi servivano a espellere il sangue in eccesso. Questa è una tecnica medica che è stata utilizzata per centinaia di anni, per più di mille anni in Europa e anche negli Stati Uniti in realtà. C'è un famoso presidente degli Stati Uniti che è stato tipo salassato un sacco poco prima della morte, ma in questo momento non mi ricordo, non mi interessa molto la storia degli Stati Uniti, quindi non mi ricordo assolutamente chi fosse, però per darvi idea che è una roba che ci siamo portati avanti per più di un migliaio di anni, cioè noi diciamo, oh salasso, ah sì, medioevo, sì, ma non solo, è un po' riduttivo, è come dire che il vino è stato bevuto solo nel medioevo, in tutta la storia umana, no, e salasso un po' è la stessa cosa, voglio dire che il sangue contenesse vita, è una cosa che ci portiamo dietro da tantissimo tempo, la Bibbia stessa dice sangue vita, farò un video sul sangue ovviamente, non temete, se già si andava a bere il sangue dei gladiatori perché aveva proprietà curative già nell'antica Roma, quindi insomma, se avete già visto gli altri video sulla medicina cadaverica e cose varie, sapete che il sangue era considerato fortemente legato alla vita, quindi non ci sorprende, viceversa poi molti di questi medici che ottenevano il sangue dei giovani dopo averli salassati, poi molte volte lo rivendevano ai più anziani come cura, questa è una cosa assolutamente normale e accettata, insomma, perfettamente normale per l'epoca. E se non basta, oltre al salasso, nel senso come l'abbiamo visto, cioè proprio il classico taglietto, si potevano anche fare delle cicatrici che potevano poi essere riaperte a seconda della circostanza, se ti trovi che magari devi di nuovo tornare a espellere del sangue, allora riapri la cicatrice. Si potevano fare anche tramite delle bruciature, queste ustioni proprio, di fatto erano come delle ustioni localizzate e controllate per quanto potessero essere controllate all'epoca, erano considerate una cosa positiva perché espellevano quello che si chiamava il lodevole pus. Lo so, fa schifo, però bear with me. Questo pus era considerato in realtà un sinonimo di guarigione, cioè non conoscendo il concetto di infezione come lo conosciamo adesso, si riteneva che fosse perfettamente normale che una ferita generasse questo pus, anzi, erano considerato positivo perché significava che il sangue in questo modo stava ributtando fuori il veleno che lo stava infettando. E in gran parte della storia, tra l'altro in Occidente, la polvere nera, quella polvere d'aspera era considerata velenosa, quindi anche qua si potrebbe essere uno dei motivi per cui... Vabbè, questa è una cosa più antica della polvere nera, però scusate, ho fatto il collegamento. Dicevo, comunque, ci si aspettava che si espellesse questo lodevole pus, per così dire, al giorno d'oggi nessun medico, credo, definirebbe il pus lodevole con il senso con cui veniva definito all'epoca, però per l'epoca le cose stavano così. E quindi questo bel lodevole pus era in realtà sintomo di cura. Queste ferite poi potevano essere lasciate cicatrizzare, riaperte a seconda della circostanza, insomma, perfettamente ordinaria amministrazione. Questi ustioni, queste ferite, eccetera. Però non era l'unico modo per curarsi. Si poteva anche ricorrere a purghe o emetici. Gli emetici sono quelle cose che fanno vomitare, le purghe sono i glistegri in pratica. Quindi tutto ciò che poteva essere usato per espellere sostanze che andavano ritenute in eccesso. E questa cosa, appunto, è continuata fino circa al 1500, tutta questa bella trafila. E a questo punto qualcuno potrebbe dire Scusate, ma facendo le dissezioni non si sono accorti, per esempio, che la bile nera non esiste? O che alcune delle cose che diceva Galeno erano sbagliate? Sì, ma se ne sono accorti nel 1500. Perché? Qui adesso entra in gioco un discorso che io appunto faccio in modo molto riassunto. Farò sicuramente un altro video sulla differenza tra medico e chirurgo nel corso dei secoli in Europa. Perché, a parte che variava, cioè non è che tutta l'Europa era unica. Però tendenzialmente in Europa c'è stata per sicoli la differenza fra il medico e il chirurgo. Devo fare questa piccola parentesi per spiegarvi una cosa, se no non arriviamo alla conclusione che volevo fare. Ossia, il chirurgo era la persona che operava proprio nel senso operatorio del termine, come il chirurgo d'oggi. Solo che invece di essere la professione più rispettata, era quella più sfigata. Non proprio in tutta Europa, in alcune parti meno, in alcune parti di più. Diciamo che più si andava verso il nord Europa, più era una professione sfigata, più si andava, mi pare, in Spagna e Italia. Meno era sfigata. Ma comunque non era una posizione rispettabile. Il vero medico non si andava a sporcare le mani con i pazienti. Il vero medico che cosa faceva? A parte che molte volte faceva consulti per corrispondenza. Il vero medico era laureato, ben vestito, non si andava certo a sporcare di sangue dei pazienti. E scriveva i suoi trattati, scriveva le sue cose. Abbiamo trattati di medici del passato sulla peste e sulla gravidanza e il parto, fatte da medici che non hanno né mai visto una donna incinta, né mai visto un malato di peste in tutta la loro vita. Cioè perché devi metterti a scrivere queste cose dopo aver rischiato la pelle magari tu stesso con gli appestati, quando puoi basarti su quello che è stato detto dai greci qualche centinaia di anni fa e ricicciarlo dopo tutto. E questo appunto veniva fatto. E quindi questo ci spiega già una cosa. L'elite medica, quella che prendeva le decisioni, i professori, le persone importanti, non erano con le mani in pasta sui corpi. Quindi non lo facevano, non ce n'era bisogno per visitare un medico, un medico per visitare un paziente che cosa faceva? A parte che ovviamente immaginatevi che queste persone visitassero solo le persone più benestanti, insomma. Però se si andava da un medico, questo medico che cosa faceva? Faceva un'analisi delle urine. Se avete visto tutte quelle immagini buffe, c'è un account di social, di Twitter, Instagram, che posta tutte queste marginali medievali, Weird Medieval Guys mi pare si chiami, tutti questi animaletti buffi che si combattono tra loro, tipo i coniglietti in armatura, eccetera, ogni tanto si può vedere qualche immagine, non so, di una scimmia vestita bene che guarda tipo un bicchierino di vetro con qualcosa di giallo. Ecco, quella è la satira di un medico che esamina le urine. Tant'è che Paracelso, il famoso medico barra alchimista, barra sapiente di secoli dopo, prendeva un po' in giro i medici dell'epoca dicendo che erano solo persone che guardavano le urine. Grosso modo, lui ha usato un termine meno schietto. Non so come la prende YouTube su certi argomenti a dire il vero. Vabbè, comunque, scusate se sto facendo un po' un giro ampio, però facevano l'analisi delle urine oppure del polso, quindi del battito, che era una cosa che si faceva molto, c'erano fior fior di trattati su questo genere di cose. Abbiamo fior fior di trattati con i disegni delle boccette di urina di vari colori da cui si poteva determinare lo stato di salute e fior fiore di trattati appunto sull'analisi del battito. Quindi un medico non si metteva lì a tagliuzzare il paziente. Se proprio proprio era necessario, diceva tipo, va bene, la congiunzione astrale consente di farlo in questo periodo, quello è il chirurgo. Io non ci metto mano. Questo sicuramente ha contribuito all'idea del fatto che, insomma, al perpetrarsi anche degli errori, anche anatomici di Galeno, che ci siamo portati avanti per secoli, perché se tu non metti le mani nella cosa, come fai a dire che c'è un errore? Non lo vedi. Non stai guardando una persona aperta in due, tipo, sì e sai, per vedere che cosa c'è dentro. Non lo fai, quindi non puoi neanche scoprirlo. Anche se tu avessi la mentalità aperta tale da dire forse Galeno qui ha scazzato, non saresti stato comunque capace. Bisogna aspettare il 1500, se ben ricordo addirittura il 1543, cioè forse mi ricordo una data, ragazzi, sono emozionata, per avere il nostro Vesalio, chirurgo dell'epoca assolutamente fantastico, farò un video su di lui, che comincia a dire raga, forse qui c'è qualcosa, c'è qualcosa che non cosa, perché il nostro Vesalio faceva da chirurgo anche durante le dimostrazioni anatomiche tipo universitarie, col professore che se ne sta in cattedra indica quello e quello, quello e quello, e lui apriva le cose e lui si accorgeva che le cose non erano visivamente quello che doveva essere. Vesalio ha avuto il coraggio poi di tirare fuori le sue teorie su quanto fosse anti-galeniano Vesalio. Gli storici si sono un attimo, hanno un attimo dibattuto, diciamolo in modo soft. c'è chi dice che lui fosse proprio no, no, Galeno ha detto un sacco di cazzate, chi dice se no, no, ma io non oserei mai. Su questo quindi, adesso non mi interessa scendere nel dettaglio su Vesalio. Quello che mi interessa è che poi facendo uscire la De Humani Corporis Fabrica, avete visto molto probabilmente in giro le immagini, sono meravigliose, sono dei disegni anatomici fatti dalla scuola di Tiziano, dove vediamo raffigurato il corpo umano veramente nel dettaglio, in una maniera impressionante, che appunto, non è che lui, Vesalio fosse andato lì a dire Galeno ha sbagliato, Vesalio, cioè mi pare che lo abbia fatto quello in una dimostrazione anatomica, tra l'altro addirittura a Bologna, se mi ricordo, perché Vesalio è stato a Bologna, non mi ricordo se è stato però a Bologna che ha sputtanato Galeno. Quello che mi ricordo è che ovviamente in questo domani corpore sfabrica, lui fa vedere il corpo com'è, che però contraddice Galeno. Molte persone dell'epoca però di fronte a questa cosa non dissero tipo aha, Galeno si sbagliava, dissero beh, chiaramente, nel corso di centinaia, centinaia di anni il corpo umano è cambiato, quindi non è che Galeno si era sbagliato, eccetera, quindi insomma, nice try, però, comunque, è stato con Vesalio che si è cominciato a dubitare di questa teoria degli umori, anche perché in tutte le sue analisi Vesalio ovviamente cosa trova? Beh, il sangue ovviamente lo vediamo anche noi, puoi trovare l'equivalente della bile gialla o della flemma, ma non puoi trovare la bile nera, i nostri corpi non hanno la bile nera e questo Vesalio non poteva non notarlo e quindi questo comincia a mettere la prima grossa, un grosso colpo d'ascia sulla porta che è la teoria degli umori e dopo da lì ovviamente ci abbiamo messo un bel po' a liberarci di questa cosa secondo me ci sono ancora delle persone che ci credono vabbè c'è gente che la terra è piatta non vedo perché uno non debba credere alla teoria degli umori però diciamo che ci abbiamo messo un gran bel po' e ancora oggi è rimasta in realtà nel nostro linguaggio perché poi la teoria degli umori è andata a influenzare il concetto di carattere e temperamento questo magari lo vediamo in un altro video però c'è rimasto ancora oggi in inglese quando una persona ha tipo il catarro insomma problemi si chiama phlegm in inglese è rimasta la flemma cioè tutte queste cose che ha impregnato la nostra cultura medica per diciamo almeno 1200 anni forse addirittura 1300 anni non se ne può andare con uno schiocco di dita scusate non so schiocare le dita fun fact lo ammetto non sono capace di ottenere un suono comunque questa cosa non se ne va con uno schiocco di dita immaginatevi lo schiocco di dita fatto da una persona che sa farlo non se ne va e quindi ovviamente rimane nella nostra cultura popolare e nel nostro immaginario e questa teoria per appunto per loro per loro funzionava uno dei motivi per cui tutte queste cose funzionavano dico solo quest'ultima nota poi giuro che chiudo perché già è più lungo di quanto avevo pensato il video per fare un io facciamo un video introduttivo un video dura mezz'ora vabbè per fare uno dei motivi per cui questa cosa veniva creduta così profondamente era il fatto che non c'era la conoscenza del sistema circolatorio come noi sappiamo viene teorizzato da William Harvey mi pare nel sedicesimo sedicesimo diciassettesimo secolo scusate nel diciassettesimo secolo viene teorizzato il sistema circolatorio come noi lo conosciamo quindi non si credeva che insomma che ci fosse come sapete come funziona ecco non si credeva al sistema circolatorio moderno si credeva che tutti questi quattro umori grossomodo fossero stagnanti nel nostro corpo per questo era così importante mantenere l'equilibrio e appunto non avendo le conoscenze questa teoria è rimasta scusate per questa piccola coda ma avevo dimenticato di dirlo prima questo è quanto per la teoria degli umori per oggi sicuramente farò qualche altro video di argomenti collegati perché mi piacerebbe parlarvi sia di Galeno che di Vesalio soprattutto di Vesalio perché è un personaggio tremendamente interessante che rivedremo sicuramente in altri video e questo è tutto per la teoria degli umori per oggi grazie e al prossimo video grazie a tutti